Un uomo su una Ferrari andava per la sua via, ad un certo punto arrivò una 500, veloce come un fulmine, scattò e lo superò. Un omino uscendo dal finestrino disse, ehi lei la conosce la 500? E quella macchina filò via l'uomo della Ferrari. Un po' è incazzato, mise la seconda e poi la terza, e volando arrivò quasi alla 500, che ancora schizzò via. E l'omino disse, ehi lei la conosce la 500? L'uomo della Ferrari, ancora più incattivito, mise la terza e poi la quarta, e schizzò via. E arrivò quasi alla 500, che filando ancora, e l'omino dal finestrino disse, ehi lei la conosce la 500? L'uomo della Ferrari, ancora più incattivito, mise la quinta, e schizzò via. Ma la 500 lo risuperò, e l'omino dal finestrino disse, ehi lei la conosce la 500? La povera 500 salto in aria, e fra i rottami l'omino insanguinato, il ferrarista si fermò, uscendo, accese a un sigaro. Potrebbe anche far meno lo spiritoso, con una macchina del genere, e l'omino della 500. Ma io, volevo solo sapere, dove erano i freni?